Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Tappeti Tappetos N170X115. Questi tappeti sono annodati nella città di Sanandai, che si trova nella provincia di Kurdistan nella Persia occidentale. Il disegno presenta rombi, botteo e rati dominati dai colori rosso e blu scuro. La lana è sempre di altissima qualità. Se ne ha anche dato il nome al nodo persiano. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa, 8 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.